per la serie numero cinque dei cinquanta d'orso andiamo a presentare gli atleti della serie successiva alla numero quattro in corsia numero uno Riccardo Pizzoni Ardemani alla due Alex Gazzola in tre Eriberto Sandrin alla quattro Iusri Benomar in cinque Davide Bernardini alla sei Nicolò Solmi in sette Nicolò Borsato e alla otto Giulio Moressa Grazie a tutti Grazie a tutti